Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di FEC Internazionale per la partita di domani tra Salisburgo e Inter. Con noi il nostro allenatore Simone Inzaghi e Marco Ornautovic. Cominceremo con le domande per Marco Ornautovic e a se seguiranno quelle per Simone Inzaghi. Buongiorno a Marco, è un po' che non ti vediamo, come stai? Quanta voglia hai di tornare in campo e che spazio pensi di poterti ritagliare già domani sera? Ciao, buonasera, sto bene. Sì, erano sei settimane, è un periodo difficile per me, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché io non conosco quella situazione di infortuni, anche certo che non c'ero con la squadra, però adesso sono ritornato e ho una grande voglia e cerco di aiutare la squadra. Volevo chiederti, visto che adesso si giocherà spesso, si giocheranno tante partite tutte insieme, pensi che nell'Inter ci siano in attacco quattro titolari e quindi vi alternerete tutti, oppure ci sono delle gerarchie ben precise, ci sono due attaccanti principali e due dalla panchina? E questa è una domanda per l'allenatore, non per me. Io sono il calciatore, se l'allenatore mi mette in campo io faccio tutto il meglio per aiutare la squadra. Noi abbiamo sicuramente avanti con Lauti, Marcus e Nigno un attacco molto forte, chi si merita a giocare gioca, però questa domanda non è per me, è per l'allenatore. Buonasera Marco, tu sei austriaco anche se in carriera hai giocato quasi sempre fuori, parliamo della partita di domani, cosa c'è da temere per questo Salisburgo che in Austria domina ormai da più di dieci anni? E' certo che è una partita con emozioni perché sono tornato a casa, anche se Salisburgo non è mia città, però siamo in Austria. Però sono venuto qua per vincere la partita, prima della partita e dopo la partita c'è sempre amici, però quando si gioca si fa tutto per vincere, noi siamo venuti qua per vincere la partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sebastian Vierhaus aus der Presseagentur, willkommen in Salzburg, Marco. Es ist dein erstes Bewerbsspiel für eine Vereinsmannschaft in Österreich. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Wie sind deine Empfindungen dahingehend? Ja, also meine Empfindungen sind jetzt nichts anderes, als wenn ich ein anderes Spiel spielen würde. Es ist natürlich schön, wieder zurückzukommen nach Österreich und es ist natürlich schön, gegen Salzburg zu spielen. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, vor und nach dem Spiel sind wir natürlich sehr enge Freunde. Aber während dem Spiel probieren wir natürlich alles, um das Spiel zu gewinnen. Und wir sind jetzt nicht hier wegen mir, oder dass wir irgendwie hier unser Stadion und die Stadion anschauen. Wir sind hier, um das neue Spiel zu gewinnen und uns für das Achtelfinale zu qualifizieren. La domanda è questa, non hai giocato una partita a livello di club in Austria, quali sono le tue emozioni per domani? Naturalmente la risposta alle emozioni sono grandi. Io sono austriaco e naturalmente Salisburg non è la mia città, ma torno in Austria per giocare una partita a livello di club. Prima e dopo la partita siamo tutti amici, ma durante la partita cerchiamo di vincere, di qualificareci per la seconda fase della Champions League. Marco, Thomas Kronos, ORF Salzburg. Vielleicht auch auf Deutsch noch eine Einschätzung zu Salzburg an sich. Wie schwierig wird das, Salzburg morgen zu bespielen und auch zu besiegen, wenn du sagst, ihr wollt unbedingt morgen ins Achtelfinale? Uns ist natürlich klar, dass Salzburg eine sehr junge Mannschaft hat, eine sehr gute Mannschaft, auch einen sehr guten Trainer. Man sieht es auch jetzt all die Jahre, dass sie auch international sehr viel geleistet haben. Man sieht auch, was für Spieler sie herausgebracht haben. Man weiß schon, wie Salzburg drauf ist und wir haben natürlich höchsten Respekt vor denen. Aber wir sind hier, um das neue Spiel zu gewinnen. Und wir tun alles dafür, aber natürlich mit einem Respekt zu Salzburg. Vielen Dank. C'è la consapevolezza, vedendo anche le ultime prestazioni al di là dei risultati, che questa è una squadra in grado di essere realmente la più forte in Italia e di poter competere a grandissimi livelli in Europa. A me aumenta sempre di più questa consapevolezza all'interno del gruppo. Io non posso dire che siamo più forti, noi facciamo le nostre cose settimana per settimana, abbiamo qua un mister che ci dà tutti i giorni le tactiche e poi noi facciamo in campo. Fino ad adesso abbiamo fatto un ottimo lavoro, però è iniziato il campionato, non è che siamo alla fine, è una strada ancora lunga, però siamo preparati per tutto. Grazie a Marco Ornatovic, grazie a Marco Ornatovic. Cominciamo con le domande per Simone Inzaghi. Prego, grazie per lo sport. Domani con una vittoria l'Inter potrebbe qualificarsi, è successo solo una volta nel 2004-2005 qualificarsi con due giornate d'anticipo. Volevo chiederti quanto importante sarebbe anche in ottica gestione delle forze da qui a Natale. Sì, sappiamo dell'importanza della gara di domani sera, sappiamo anche che abbiamo un avversario di fronte che ha dimostrato il suo valore già nella partita di San Siro, che è una squadra fisica che corre tanto con ottimi giocatori, quindi sappiamo che ancora di più domani sera qui nel loro stadio, che abbiamo già giocato qua, sappiamo quant'è il calore dei tifosi, dovremo fare una partita da grande Inter perché affrontiamo una squadra di tutto rispetto che il Champions ha sempre fatto bene, il girone dell'anno scorso, in Europa League, quindi è una squadra che sa giocare queste partite. Prego, buonasera Simone, buonasera. Se c'è possibilità che Lautaro riposi e parta quindi dalla panchina, ma volevo anche chiederti, legato a questo, se questa è davvero una squadra che con la crescita di questi due mesi sta dimostrando di avere 15-16 titolari, se senti che questo è giusto. Assolutamente sì, io chiaramente tutte le partite devo fare delle scelte, domani sicuramente ci sarà qualche cambiamento, ma deve essere una grandissima risorsa, non deve essere un problema per me, per fare una formazione iniziale, per fare qualche cambio, abbiamo una rosa ricca a disposizione, devo cercare di utilizzare il più possibile, ma la utilizzo perché i ragazzi mi stanno dando risposte negli allenamenti, nelle partite, quindi domani ci sarà qualche cambiamento, perdiamo, come avevo detto dopo la partita di Bergamo, che eravamo un po' in apprezzione per Pavard, perdiamo un giocatore per noi importantissimo, che si era inserito nel migliore dei modi, sia a livello tecnico-tattico, sia nello spogliatoio, però abbiamo visto in questo periodo, abbiamo fatto bene, nonostante la mancanza di Arnautovic e di Quadrado, e aspetteremo Pavard dopo un mese e mezzo che ritornerà a darci una mano. Ciao Simone, hai fatto riferimento poco fa alla partita d'andata, a quello che è successo in questi 15 giorni con gli infortunati, quindi ovviamente non ti chiedo se ci saranno cambiamenti di giocatori, però rispetto a quello che hai visto 15 giorni fa, al Salisburgo visto da vicino, quindi hai potuto valutare pregi e difetti dell'avversario, pensi di cambiare l'approccio alla partita oppure va bene come è andata a San Siro? Chiaramente abbiamo analizzato quello che è successo una settimana fa a San Siro, ce lo aspettavamo tutti perché a Salisburgo vince il campionato ogni anno, fa la Champions ogni anno, quindi è una squadra di qualità, un ottimo allenatore, ottimi giovani, una squadra che corre, organizzata, quindi come a San Siro domani avremo delle difficoltà e dovremo essere bravi tutti insieme a uscire nel migliore di modi come siamo usciti a San Siro, perché a San Siro non abbiamo approcciato bene la gara, i primi quarto d'ora e venti minuti abbiamo fatto fatica ad entrare in campo perché tecnicamente abbiamo sbagliato più del solito, poi una volta entrati in campo secondo me abbiamo fatto una parte finale del primo tempo e un secondo tempo ottimi ed abbiamo meritato la vittoria, domani sera qui nel loro stadio sarà ancora più difficile. Grazie a tutti. Corriere lo sport Ciao Simone, buonasera Ti volevo chiedere qui, come sempre anche nei campi d'Europa, ma anche qui a Salisburgo possono essere partite lunghissime, infinite, domani a parte l'approccio servirà più palleggio, più gestione, più aggressività, come dovete interpretarla la partita? Servirà a tutto, servirà a tecnica, a fisicità, perché abbiamo toccato con mano il Salisburgo stesso, la Champions, tutto il nostro percorso, una squadra fisica e tecnica, quindi dovremmo essere bravi in tutti questi due aspetti, sapendo che hanno dei giocatori che oltre alla fisicità che sono tecnici e quindi ci vorrà la migliore Inter, quei ragazzi ne abbiamo parlato, sappiamo l'importanza della gara e quindi cercheremo di mettere in campo una partita importante. e ultime due, calcio mercato e poi tutto mercato e abbiamo finito. Buonasera mister, è chiaro che in momenti come questi, lei diceva, abbiamo anche perso Pavard, insomma siamo un po' corti dietro, quindi Dunfriss mi è parso di capire che oggi fosse un po' stanco e certi segnali bisogna leggerli. Leggendo appunto questi segnali, vado al sodo, crede che Bissek è pronto per una serata del genere, come lo ha fatto vedere anche in precedenza quando siete andati a giocare in Spagna, ha messo Aslani, non ho avuto paura insomma. E quindi le chiedo se anche per Bissek potrebbe essere arrivato il momento. Grazie. Ragazzo, Bissek che sta lavorando molto bene dall'inizio dell'anno, è un giocatore in crescita che sta dando grandi segnali in allenamento e nei minuti finali che ha avuto a sua disposizione. Abbiamo questo problema a destra perché abbiamo avuto lo quadrado e l'infortunio di Pavard, Dunfriss stamattina non aveva ancora recuperato per potersi allenare, quindi ne ho parlato col dottore, con i fisioterapisti, il ragazzo c'è, però non so ancora se comincerà la partita. Chiaramente ho l'opzione di Bissek, ho l'opzione di De Vrij, eventualmente posso mettere Carlos Augusto a destra. Ho diverse opzioni, in questo momento devo valutare, fermo restando che in quella posizione con quadrado fuori, Dunfriss non al meglio, potremmo anche alzare Darmiani in quel ruolo. Grazie a tutti. Buonasera mister, immagino che nelle rotazioni sarà incluso anche il terzetto di centrocampo, dato che giustamente non ci dirà mai se riposerà Barella o Mkhitaryan. Le volevo chiedere a che punto sono le dinamiche tra Barella e Frattesi, cioè li considera pronti per giocare insieme dall'inizio, visto che hanno caratteristiche abbastanza simili? Grazie. Assolutamente sì, hanno giocato il secondo tempo col Salisburgo molto bene, perché il secondo tempo col Salisburgo abbiamo fatto meglio rispetto al primo, domani vedremo, sicuramente giocherà Frattesi dall'inizio, devo ancora decidere gli altri due posti, perché abbiamo Aslani che è in continua crescita e Mkhitaryan e Barella stanno facendo molto bene, quindi devo decidere. Abbiamo lo stesso Klasen che meriterebbe chiaramente il suo spazio, perché è un giocatore che ogni giorno, in ogni allenamento, mi mette in difficoltà, ma anche domani, come succede ogni giorno anche da piano, dovrò fare delle scelte, queste scelte saranno solo ed esclusivamente per il bene dell'Inter. La domani è la domani, come se facendo la domani, come se facendo la domani, e a tutti i giocatori nell'Intervista. Abbiamo bisogno di fare la domani, alla domani, a tutti i giorni avviene, e ci sono tutte le spazio, ma non ci si trodiamo. andate una domani alle, ma non ci si trodete. Ma non ci si trodete. A tutti, ci sono allen indeczioni. Ciao, ciao. Grazie a tutti.